Salve a tutti, oggi volevo recensire una Roma marca 77 Flower che si chiama British Black Currant, British Black Currant, che dovrebbe essere... Black Currant sono mi pare i mirtilli, che cazzo ne so io, britannici, capisci? Perché i mirtilli britannici rispetto a quelli che ci sono, che ne so, qua in Italia sono diversi, badona caga, questi sono aromi stranissimi, va bene, perché nella boccetta è scritto espressamente che questi aromi, ne ho già recensito di questa marca. Vanno diluiti, scusate, vanno diluiti tipo a qualcosa come il 30%, la pazzia. Io questo l'ho diluito a non so quanto per cento, credo al... no, a parte gli scherzi al 20% e sbappato subito non sapeva di niente. Sbappato adesso, dopo un mesetto circa, ha un buon sapore, non è fresco come gli altri aromi, va bene, della 77 Flavor. Faccio così perché sto guardando la boccetta per cos'è. Però è buono, ha un ottimo sapore, devo dire. Questo diluito al 20%, diluirlo a concentrazioni maggiori non lo so, proverò magari. E lo sto sbappando di pormono su questo elegantissimo sistema. E basta. Su questo elegantissimo sistema, una bella E-Leaf One's Gaps da 220 watt più il Goon. Faccio la prova di sbappo che a voi vi piace questa prova di sbappo. Potete vedere la prova di sbappo. E cilli. Buono. Basta.